Tudor Black Bay Ceramic, il primo orologio Tudor Master Cronometer. Il Black Bay Ceramic è uno degli orologi più sorprendenti e riusciti del 2021. Si tratta di una novità della collezione Black Bay, la linea di orologi subacquei Tudor che si ispira ai modelli storici degli anni 50 e 60. Il Black Bay Ceramic si distingue per il suo stile audace e distintivo, che unisce una lunetta nera girevole unidirezionale con una cassa in acciaio e ceramica nera opaca. La ceramica è un materiale che offre numerosi vantaggi, è resistente ai graffi, alle alte temperature e ai campi magnetici, ed è anche molto leggera e confortevole da indossare. Il Black Bay Ceramic ha una cassa in ceramica nera di 41 mm di diametro, con una forma arrotondata e delle ansie sottili che ne migliorano l'ergonomia. La lunetta girevole in acciaio trattato con pv di nero, ha un inserto in ceramica nera dalla finitura soleil con incisa una scala graduata 60 minuti. Il quadrante bombato nero, anche lui con finitura soleil, ha un effetto opaco che contrasta le lancette snowflake e gli indici color argento, che sono rivestiti di un materiale luminescente bianco, Swiss Superluminova, per garantire una buona leggibilità anche in condizioni di scarsa luce. Il quadrante presenta anche alcune scritte che evidenziano le caratteristiche dell'orologio, come la resistenza all'acqua fino a 200 metri e la certificazione Master Cronometer. Il Black Bay Ceramic, oltre a disporre della certificazione COSC, è infatti il primo orologio Tudor a ottenere la certificazione Master Cronometer rilasciata dal METAS, l'istituto indipendente di metrologia che verifica la precisione e l'affidabilità degli orologi. Il Black Bay Ceramic è dotato di un movimento meccanico a carica automatica, il calibro di manifattura MT5602-1U, che ha una finitura nera e un bilanciare in silicio antimagnetico. Il Black Bay Ceramic è accompagnato da un cinturino ibrido in cuoio e cauccio nero con cuciture bianche. Il Black Bay Ceramic ha ricevuto il prestigioso premio al Grand Prix d'Orlogerie de Genève 2021 nella categoria Petit et Guy, che premia gli orologi con un prezzo inferiore a 8000 franchi svizzeri. Questo premio riconosce la qualità, l'innovazione e il design di questo orologio, che si colloca tra i migliori del settore orologero. Il Black Bay Ceramic ha saputo conquistare la giuria del GPHG con le sue caratteristiche tecniche ed estetiche, che lo rendono un orologio unico e distintivo.